Comincia la diretta della finale, amichevole quadrangolare qui a Trino, Vercellese, posto del riso. Gioca Allegriville 2005, capitano Tommaso Kyuk direttamente da Cogne, contro l'LG Trino. Arbitra, capitano Bardock, titolari, capitano Tommaso Kyuk, portiere Iacobucci, Daniel, Edoardo Oletta, Pozzan Davide, Ray Simone, Gigno Franceschini, detto Luigi da papà e mamma e dagli amici Gigno. Poi abbiamo Pellu André, Paiko Vargas Mattia, abbiamo Frank. Bravo ragazzi, ciao, ciao, buon divertimento. Francesco Fosson, ciao, 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 siete in diretta, ciao. Francesco Fosson, abbiamo Flavio Chianese e Simone Ray. Sabatino Ray. Ciao a tutti. Ciao a Tonella. André, eccoci qua alla finale del campionato nazionale, dilettante. Il trino che incita i giocatori. Invece qua abbiamo un, due, tre, Grevy, olè, scialalala. André, dai, fai contenta, va, ma scialalala. Scialalala. Direttamente. Simone Ray, saluta papà. Alzati, 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 alzati. Gira, 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 chiede Yoribucci. Gira, la palla su Ray. Si gira. Ragazzi, Siamo. Prego, più veloce, più veloce. Sì, più veloce. Vai, anche le palla. Palla, su, tu, su, pozzà. Abbiamo il nostro mister Nicola Turato. Non c'è bisogno. Siamo ancora da solo. Ecco Frank, ecco, scatto felino. Ryan su Pozzan. Pozzan gira su... Panito. Gioco di gamba. Viene intercettato il gioco. Direttamente su Giacobucci. Palla. Veloce, ragazzi. Veloce, ragazzi. Veloce, ragazzi. Stacco, stacco, il gamba, aiuta. Ecco Ray. Intercetta la palla a Ray. Riesce a tenerla. Sulito su. Chiuc. Che gira, agira. La passa su Flavio. Flavio su Pozz. Su Frank. Flavio, Flavio, più veloce. Era giusto, ma più veloce. Ancora 0-0. Tommi è incominciata la finale, primo e secondo posto. In questa vincevole è un quadri quadrangolare con Divinia Zientiretta. Abbiamo vinto la prima contro l'SC Assi e adesso le due vincenti stanno giocando il primo supermercato. Si allarga il portiere su Gino. Si allarga il portiere su Gino. Gino dovrebbe triangolare. Se triangola. Gigi, sei lento. Sei lento. Gigi, essi più veloce, se no ci chiudono. Sei lento. Ecco Pellu. Pellu sale, sale Pellu. Divente accettato il passaggio tra Pellu e Frank. Batte Pellu. Subito su Kjuk. Frank, di testa Frank, col ciuffo. Porca miseria. Questa è una bella setta. Ti ha preso in faccia. Si rialza Frank. È un tosto. Frank è un tosto. Ciao Rebecca. E chi è a posto? Flavio, Flavio. Raja, Raja, dietro l'otto. Dietro l'otto. No, dietro l'otto. Stai là. Hai tutto il tempo di rivedita. Lascialo lì. Ok. Ci siamo. Ora, gira, 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 gira. Gira, gira, gira. Ok, ora, ora, ora. Baraya, Baraya. Sopra, sopra. No, no, no. Passivo. Ciao Tommy. Comando. Riprenditi in fretta. Adesso. Proteggiero. Non perde. Paolo. Vieni, Triang. Paolo, mordi. Paolo, vieni. Paolo, vieni. Paolo, vieni. Paolo. Vieni. Sopra. Vieni. Paolo. Paolo. Sali ora, sali! Simo, Simo, la troviamo lunga, quel passaggio lì è importante. Maia, dietro all'otto devi essere, perché se la perdiamo lì. Ecco il capitano, tiene palla, la passa su Raia, non si capiscono i due, recupera il capitano. Dai Raia, dai Raia che è girato! Lo fai cacciare! Giriti! Non si capiscono i due, non si capiscono i due, non si capiscono i due. Si sono, si sono! Passa il capitano Kük, viene falciato a panino, il capitano Nurghagli. Prova quello a tre, provo quello a tre! A tre! Ok, devi essere in mezzo! Andiamo a dare succedimenti al capitano di come tirare la punizione. Prepara la barriera del portiere. Vediamo se tira di primo o di secondo il capitano. In testa ci sta tornando! Di poco Pozzano l'ha presa. Porta! Usa la testa, non piedela! Cerca di salire il trino, ma c'è Chianese. Kük che blocca il passaggio, lo anticipa. Sempre Kük e Chianese. Fuori, a fuori delle Greville, batte Pellu. Bello sul Pozzano che protegge la palla, si gira. La passa Ryan. Vai, tacchetto! Non è riuscito Ryan, di poco. Ecco Chianese, protegge la palla subito sul capitano che la ripassa su Ryan. Ryan su Ray. Ray viene intercettata la palla, se la riprende. Quando si sbaglia si recupera. Ecco Paico. La passa Pozzano. La passa Pozzano in area, a tiro. Rete! 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 1-0 per le Greville. Siamo qui nel finale del campionato mondiale di Trino. Chi vince fa un giro alla centrale nucleare. Ingresso gratis. Sono andata. No, no, Frank! Ecco, il Trino subito in attacco, non vuole cedere. Non ti fa tagliar fuori così! Io farò! Accompagnalo, no! No, no! No, no, no! Batte l'angolo il Trino. Abbiamo subito il 7, l'8. Sono due nuovi acquisti direttamente dal Qatar. Occhio al 10, Frank! Le spinge Chianese. Altro cross del Trino. Fai uscire, fai uscire! C'è Ray che protegge. Bravo Simo! Ray protegge. Attacca, no! Una gran palla a me! Oh! Mamma, stai lì! Fra! Lungo di là! Falca davanti al quattro! Spingo! Alzati! Alzati! Deve uscire! Iacop! 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 Si allarga su Edo, Edo è su Pellu. Tiene la palla Pellu. Batte il Trino. Ci prepariamo a fare la Coppa di Riso. Sali, sali Simo! Portala! Portala! Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai! Ciao Lorenzo. Vai dentro, vai dentro! Ecco Ryan. Pronto, pronto per far gol Ryan. O per crossare, vediamo cosa fa. Vediamo. Passa la palla. Capitano, capitano. Trova il tiro bomba. Mi ha intercettato, ma arriva Frank. Ecco Edo. Edo la passa su Chienese. Chienese di sinistro, di destro al Pozzano. Occhio, occhio a scattore! Cerca di riservire il Trino. Pozzano. Pozzano si gira. Passa su Ryan. Puntalo, puntalo! Deve puntarlo Ryan, deve puntarlo. Puntalo, punta, punta, puntalo! Ecco il capitano. Tira di destra il capitano. Bella parata del portiere. La bomba del capitano. Ma arriva Ray. Che la ripassa al capitano. Pozzano. Pozzano di sinistra. Tira. E bravo di nuovo il portiere che riesce a intercettare la palla. Bravo, bravo. Occhio a scappare. Bravo, Simo. Bravo. E' giusto così, Ryan. Pazienza. In mezzo, Ryan. In mezzo. Ora. Ok, comincia a scalare. Vi dico l'appoggio. Ciao Vittoria. Ciao Vittoria. Stop ai marchi. Volete vedere la panchina? Volete vedere chi c'è in panchina? Ecco la panchina. Occhio a scappare. Occhio a scappare. Ciao. C'è Julien e André Henry. Guarda Gigno che scivolata. Ha tenuto la palla. Pazzo, Pazzo. Ciao. Bravo. Ecco Jacopucci che esce con tutta la sua padronanza. Ma se non l'abbiamo mandato è il fallo, eh. Pallo. Oh, guarda la linea. Guarda la linea. Si sono messi male. Se perde il palla, si sono messi male. Ecco Pozzin. Pozzin sul capitano. Vai, vai, vai a disturbare. Vai, Frank. Non farò tornare. No, Frank, piatto. Gira il primo la palla. Chiudi in mezzo. Cambia gioco. Ecco Simo. Ci trova mamma. Numero 9. Paico. Su Chiamine. Puzzano. Scarico, scarico. Scarica. E vai ora, vai. Mancato uomo. Ecco il capitano numero 10 del trino. Fa una bella Veronica. Tiene la palla. Riesce. Riesce. Dai, dai, dai. Zitti, zitti. Va bene. Dai, Paolo. Dai, Paolo. Ciao, Eric. Ci trova il trino con la punizione. Dai, dai, va bene. Oh, oh. Raia. Occhio, occhio. Basta, basta così. Basta così. Basta così. Se va, vai. Se no, no. Fai il go. Fai il go. Dentro, dentro. Mette la barriera. Iacobucci chiede la barriera. No, stai là, stai là, stai là. Occhio a scappare. Occhio a scappare. Senza nessun problema. Iacob prende la palla come se fosse un bambino appena nato. Tra le braccia. Rino non molla con Mama che tira al sette. Il sette di destro. Prende in faccia la palla. Vedo, lo spinge. Frank di testa su Flavio Chienese. Edoardo di petto. Ecco di nuovo Frank. No, sai, sai. Vai, porta, porta Simo. Forza, porta, porta. Passa Simo. Ora che c'è uno. Fatta lo scappoglio. Vita fuori, vita fuori, vita fuori, vita fuori. Vita fuori. Far play Greville, l'Egitrino. Due, due. E' loro. E' loro. E' il laterale, buona. Ciao qui. Ok, dai. Gioca, gioca. Non ti schiacciare. Non ti schiacciare. Gioca, gioca, gioca. Gioca, gioca. Gioca, gioca. Ecco Gioca, su Ray. Stasera ha riso con le ranee. Uomo che arriva. Frank. Frank che scarica sul capitano. Capitano su Ryan Sabatino. Mi sono confuso con Clady. Ryan salta l'uomo. Recupera la palla Ryan. Ryan, non lo ferma nessuno. Ryan, Ryan di sinistro. Va bene, Ryan, va bene, va bene. Bravo. 1-0 per la Bruglia. Siamo qui in finale contro il Trino. In premio c'è Riso e Rani. Edoardo lo blocca. Arriva Pellu. Occhio Ryan nei due, eh. Occhio Ryan! Taccalo! Ryan! Ven giù e mettila! Ryan! Guarda che super avversario. Non guarda gli avversario. Riso è iniziata. Dai, dai! Seroci! Seroci! Edoardo recupera palla. Ma deve perdere. Andiamo. Tira! Si tira. Veronica di Veronica. Veronica di Veronica. Arriva Carmela. Recupera. Attiene, attiene, attiene. Bussaggio 2. Punto, punto, forza. Vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Ecco. Pozzanco, il 9. Scarta tutti. Dribbla! Scarta! Dribbla! Cosa è successo? L'arbitro ha il fischietto facile. Ah, è perché c'è un ragazzino a terra. Del Trino, eh. Edo! 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 Ok uscire così, ma devi dare concretezza all'uscita. che ha un'altra scala. Edo! 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 Punizione per l'Agreville. Ecco Ryan, Ryan di sinistro. C'è, c'è Ryan, c'è, c'è Ryan, c'è, 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 c'è. Oh, Ryan, sei già entrato, vai dentro, no? Ti riporta! Vai, vai, vai! Ryan, Ryan, sei già entrato! Cosa rientri di nuovo? Ma vai in forte, calciano! Mattina in forte, perché rientri dall'avversario? Rientri sempre! Riega, non può passare! Vieni, vieni, vieni! Ryan devi essere qua, chiudi! Francesco! 1-0 per la Greville. Pareggio, pareggio del Trino, pareggio del Trino, pareggio del Trino! Pareggio del Trino, 1-1. Tommi, 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 giusto, fare l'orizzontale là così, pericolosa! Ehi, Tommi, avevi già la giocata qua, va bene, va bene, dai, 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 ci sta, dai! Anche la partita, ancora, solo appena incominciata, 1-1. Egreville, Trino, gioca in casa il Trino, perché siamo a Trino. Piaccio in casa! No! Tommi! Baccia in casa! Baccia in casa! Scuna, bacchala! Baccia in casa! Arbitro, bacca in casa! Ma tu credo che... Cambio, cambio del Trino. Esce il 14, entra il 7. No, essi il 7, esce il 14. No, esce il 7, esce il 14. Passava proprio alla metà io. Giuseppe! Albitrao! 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 Frank! 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 Vieni! Esce Francesco Fusson, entra Giuseppe Anastasi col 14. Esce Frank Fusson. Testiti Frank! Vittorio, non ce la fa! Mamma, fai in alto il posto di Juli! Si è fatto male un ragazzino, un giocatore del trino. Vittorio! E' caduto male Frank! Stai dietro e mamma davanti! Cristiano! Tutti insieme a questo! E' caduto male? E' caduto! E' caduto! E' caduto! Sali, Gigi, sali! Sali, sali! Veloce! Bravo! Sali, vieni, vieni, dentro il campo, dentro il campo! Gira, giro! Sale il trino. Gira, gira! Recupera Paico, ecco Ryan, Pozzin, su Ryan. Ragiona, ragiona! Viva! Viva! Paolo! Viva! 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 Uno a uno e Greville, trino. Uno a uno e Greville, trino. Rientrano nelle proprie panchine i ragazzi per ascoltare i consigli dei mister. Ecco la panchina del trino. Uno a uno e Greville, trino. Dai Giuri, dai! Viva! Non ce ne sono! Quello! Quello! Non ci sono così! No, non ci sono così! Perdonate. Panchina della Le Greville, mister Artù Rato, che lei consiglia ai suoi ragazzi, dirigente Marco Pozzin. si scaldano Julien Betin André Henry Francesco Fosson che è appena uscito a favore di Giuseppe Nastasi ragazzi stacco un secondo la diretta e mi riattivo perché in modo che poi non finisca durante il tempo ricomincia la diretta le due panchine si stanno confrontando stanno rientrando anche ragazze d'ultrino c'è la diretta ecco Sky News che fa le foto al portiere ciao Greta non mollate dai 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 che va bene è un giocatore che si chiama Mendez però oggi non c'è influenzato Emma si si è buono me l'ha detto altri mi ha detto un osservatore del Torino si si oggi è alla febbra è un bel giocatore presto polo scaldatevi ragazzi ma lui ha fatto provino per il settimo forse un mese fa prima di Natale il martedino è poi lì può essere scaldatevi ragazzi occhio a scappare se caccia occhio a scappare giuse riparte amichevole 1-1 capitano scarica su pianoire basso una stanza dietro fatti venire giuse giuse giudano arriva Gabri sali ora sali metta il campo veloce prima vatti a uscire coprilà Dio mandalo mandalo in panchina abbiamo ancora abbiamo Franceschino Francesca Franceschini Luigi e abbiamo Francesco Fossò un costone ricordiamo che è amichevole i cambi sono liberi corcia Cristian paolo paolo viene in butta a terra il capitano ma si rialza senza problemi non è vittorio 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 largo largo eccolo vai su distretto vai su distretto fraci ma non andare con l'esterno vai una volta con l'interno scoppa sta palla dai vieni vieni alza ti alza ti alza ti mamma vieni soldano vieni vedo sua fascia sinistra stacco 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 maso che è vittorio vittorio gioca con i compagni davanti del trino dai largo giuse sei in ritardo giuse veloce facendo è la toncata esci 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 capri andiamo veloce 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 meglio capri giugno dai dai capri postala capri postala gira gira vai dentro ciao qua entra entra cross ecco bravo paolo così paolo 1 a 1 appena cominciato secondo tempo giuliano va bene gioca è ecco ecco vai dentro vai dentro vai dentro vai dentro metti da ancora ancora sali giro Il portiere spinge la palla, c'è qua Nito, Paico. Fallo, no, è ancora buona la palla. Ecco il capitano, cade Paico, si fa male ma l'azione continua, l'arbitro non fischia. Forse si è fatto male Paico. Paico. Si rialza Mattia, tutto a posto, zoppica un attimino ma tutto a posto. Riala, Riala, viene di qua. Riala, veloce, veloce. Gira, gira. Vieni là, appena si è preoccupato. Tutto! Vai mamma. Junior, cambia, cambia. Meglio Junior, dai. Alzati Monira, alzati, ce l'hai davanti. Adesso, adesso mamma, vieni. Occhio che no, se l'oro. Aiuta Junior, girati. Davanti a te, davanti a te. Vai, ce l'hai. Capitano, la gira su Giuse. Anastasi, vediamo se crossa. Crossa Anastasi, sul Pozzanaro. Riala. Subito, subito. C'è Lario. 1-1, secondo tempo. Tira. Guarda il portiere. Occhio a scappare. Capitano, la protegge. Rattene. Staccati, Tommy, staccati, Tommy, che te la do. Ce l'hai, ce l'hai. Vitto, girati. Basta, basta, dammi lui, dammi l'ampiezza. Ti to' stretto, stretto, stretto. Vieni, vieni, Giuse. Giuse. Sentiti a posto, dai. Girati. Vieni dentro al campo. Accorta, accorta. Accorta. Accorta, accorta. Accorta, accorta. Accorta, accorta. Il Pozzano. Pozzano sul capitano. Dai, Cristian. Bravo, Gris, bravo. E' sapele. Arrivi, arrivi. Si appresta a fare un cambio, il trino. Entra il numero 6. 18. C'era un altro ragazzino che li assomigliava col 6. Per quello che... Si, 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 è vero. Arriva, giornata di prima. Ci sono accendere il telefono. Giordati prima. Si, sono in diretta su Instagram. Poi ci sta il video su YouTube. Non ti fa spostare. Lascia, lascia. Lascia, lascia. Lascia, lascia. Lui da metà. Batte fuori. A favore di... Piazza, piazzati. Cri vicino, cri. Vieni, vieni. Curti. Giacobucci. Salutiamo il nostro portiere, Federico Rossi. Fatti, fatti, girati, fatti. Vieni, 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 vieni. Ragazzi, ragazzi influenzati. Ci salutiamo tutti. Molinaro, Mendez, Dobbo. Abbiamo un squisito. Federico Rossi. La linea, la linea. Invece salutiamo anche David Gagliardi. Lo aspettiamo presto in campo. Ma, ma, vieni largo. Ma, ma. Edo, concentrati. Soli, soli. Soli, soli. Giordà, arriva. Sulla fascia. Non ti posso saltare, Raya. Non ti posso saltare. Non ti posso saltare. Porta il gelo. Vino su Raya. Scorico, scorico. Venti schiena. Scorica dietro, no. Vieni. Batte il trino. Gagliardi. Vai, vai, vai. No, vai, vai. Non ti posso saltare. No, vai, vai un po' più in qua, no? No, vogliamo. Dai, veloce. Uno che l'aiuta. Attaccalo, mamma, attaccalo. C'è, il Molliero. Mandalo. Veloce, Molliero. Capitano. Henry su Nastasi, Nastasi su Maiko, Vargas, Mattia. Batte l'esterno Henry, sul capitano Kyuk. Gira, 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 mamma, parti, mamma, parti! Scala, scala, tre! Guarda Munir, guarda Munir, guarda Munir. Solo, solo! Entra Kyuk! Gira, mandalo, mandalo! Guarda Munir, sveglia! Vai dentro, vai dentro! Vai Kyuk, attaccala, attaccala Christian! Sì? 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 No, zero per il primo. Listo! 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 Vai! Gioppiamo! Paolo, ce la fai? Paolo, ma noi cittadini, vittogliere tutti, non chiedere te! Stretto, stretto! Cristian, aiuta, Cristian! Sono pronti due cambi del trino. Giulio, non rischiare. Paolo, vai! Arbitro! Arbitro! Cambio, Paolo! Giulio, non rischiare. Entra il numero due. Esce Mamma. Giordano, stringi, Giordano! Guarda lì in mezzo, devi coprire, alzati! Tutto! 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 Buona, buona, buona! Bravo Cristian! Bravo Canoli! Bravo mamma! Iuli! Iuli! Alla tua sinistra mamma! Alla tua sinistra! Solo, solo! Fai capricchiamola! Le mamme delle greville stanno cittando la squadra. Patti! Le braccia aperte! Vitto! 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 Andre! Vitti! Patti! Cambia, Simone Raffa. Pena! Veloce! Stringi, bisogna marcarlo a distanza, poi ci arrivi. Devi aiutare anche il centrale. Ma porca, sei vantaggio di quattro metri, si perde il palazzo, vantaggio tuo! Andalo! Solo, solo! Arriva! Vai, Fred! Guarda, vinciamo! Gira! Siamo al secondo tempo. Bello! Dai mamma! Solo, solo, giro, giro, giro! Devi recuperare assolutamente le greville. Sono in posto, stai la giornata, stai la mamma, vieni tu, vieni tu! Ecco, Ryan. Lunga linea! Lunga linea! Solo, solo! E lo spazio! Non tocca! Nei piedi, con due giocatori. In posto, in posto, in posto! Il tank protegge. Chiarinese di spalla. Beh, bellezza! Sali loro, sali, sali! Forza! Sali! Solo, solo! Arriva Capri, ce l'è dietro! Ecco il capitano. Bravo! Benji! Non in mezzo! Mandalo! Vai! 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 In sesso mamma! Alza, alza, alza! 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 Bravo! 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 Benji! Esterlo! Non in mezzo! Giovanni! Stringi! Stringi! Stringo! 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 Occhio! Gio! Stringo! Occhio quando arriva! Vai! Lui! Uno! Uno! Uno e mezzo! dentro! Ancora, ancora Francesco, ancora! Alza, piante! Scurray. Stiamo giocando a palla tennis. Il capitano di tacco su Rai. Rai sale. Torno, Benedetto! Torno, Benedetto! Pensa a Nastasi. Nastasi su, Paico. Uno, due, uno, due! Guarda il futuro Edoardo. Gioca! Benedetto, la tua sinistra! Visto, visto l'uomo! Visto! Gioca, Iuli, gioca! Il tacco... Eh, tirate su, tirate su! Sali! Dietro! Elu! Siamo in un sito! Portali su e fuori giù! Benedetto! Bene, questo è il tuo! Visto! Varte la punizione... Benedetto! 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 La palla si trova lì! Vai più dentro adesso, vai più dentro! E' la palla che va in porta, eh! Non l'avversario da solo! Bravo, stai lì! Vitto, non dagli metri! Non dagli metri! Batte la punizione di Edoardo. Su, capitano! Capitano su Nastasi. Nastasi... Corcia, Cristian! Aiutalo! Salta l'uomo, Nastasi. Cristian, abbassati! Vieni! G��erite! Vieni! Vieni! In un inter 4! Vieni! I su Nastasi. Vieni, vieni, non parla ne! Vieni, non parla ne! Stai là! Vieni, Giuseppe! Perdi! E' in controllo? Non ti fa saltare, non ti fa saltare! Si è fatto male nuovamente Paico, Zofica, è entrato al suo posto Franceschini e Luigi. Sale Edoardo al posto di Paico. Parti, parti Benedetto! André, André, passa Edo, tiro di Edo, bomba! Di poco, di poco! Corsa Cristiano, aiuta! Tra, tra! Ero a posto! Benedetto, vieni! Ero a palla Edo. Pazzan, scarica sul pello. Capitano, ma Pazzan gira. Tira Edo. E' gol! Edo ha fatto gol! Edo ha fatto gol! Edo ha fatto gol! Edo ha fatto gol! Vieni, vieni Gabri, alzati! Francesco, vieni! Porta l'esterno, porta l'esterno! Adesso! Vai! Edo! 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 attacchettino della dirigenza! Andrea! Le banane! Le cerchiamo di aggiustarle! Non mollate, Francesco! Non mollate! Non mollate! Benedetto! Vai! Trino! Entra! Edo! 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 Ciao, Robi! Vai, parti Francesco, parti! Gira! Cazzo! Uno contro uno, gira! È un freddo dalla madonna! Oh! 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 Ma che buono! quelle buono! dobbiamo! Salo! 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 Forza nostalgia! Palle solo, Giuseppe! Capitano, non molla, capitano, non molla. Capitano scontro, capitano. Tommi, Tommi! Dai, ci sta! Tommi, dai, va bene! Oh, oh! Dai, Gabri, da mollare, Gabri! Roia! Roia! Francesco, guarda! Scala! Dischetto! Dai, vitto! Quattro! Dischetto, 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 dischetto! Hai vinto! Vai dentro, vai dentro le cuore! La bellezza confermata! Forza! Forza! Su Ryan! Andiamo, vediamo! Ryan! Occhio a scappare! Ci riempettiamo! Chienese! Salvatore! Capitano, su Pozzin! Pozzin, su! Edo, 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 Edo! Tiro! Nooo! Ragazzi! Bravo, Edo! Che triangolazione! Edo, hai già tre volte che ti ne importa! Dai, non molliamo! nooo! Nooo! Occhio! Vecchi! Vai sulla palla! Vai sulla palla! Vai sulla palla! Vai sulla palla! Ragazzi, qua volendo spintoni! Fischia, l'arbitro, 2-2 il pareggio. Adesso non so se vediamo il rigore o no. Ma ci sono i rigori? Ci sono i rigori ragazzi, rigori. Vediamo il rigore. Allora ragazzi siamo pronti per andare ai rigori, vi vedremo in diretta, non vi preoccupate. Ragazzi devo cambiare l'obiettivo perché come sempre vi darò il meglio. Andiamo a Bortenet. Direttamente per i rigori. Il fondo scheda del vostro giocatore preferito. Siamo qui ai rigori. Siamo tranquillamente nel posto migliore. Siamo tranquillamente nel posto migliore. Siamo tranquillamente nel posto migliore. Gennà, stiamo sempre classico. Venti, hai capito? Sì. Vabbè. Inizia a cacciarci. E noi? Non lo so. Chi è che caccia lì? Due capitani? No, no, già fatto. Già fatto. E Michele ha scelto di cacciare lui. Chi è? Fatto. Capitani? Ok, allora facci. Ha vinto del scelto che voleva le cacciare lui. E' sbagliato. Batte... Il primo rigore è il trino. Iacobucci, portiere. l'ha quasi parata ragazzi è passata in mezzo siete in diretta se volete vederlo i vostri se vogliono vederlo i vostri è in diretta poi si vede anche su youtube comunque ah ok dobbiamo cercare cosa? qua su instagram appunto auletta ah ok grazie grazie anche prima comunque poi lo vedete batte vai ben giri forza andavide sorriso due bams brava pazza uno pari lo devi fare in prima di parci proprio 10 secondi muoverti quindi invece di noi rincopri un po' la porta dai vittorio deciso dai dai batte il trino il numero 14 niente grave dai chi non tira rigori non sbaglia chi li tira può farli e non farli tranquillo vitto il nostro giuseppe nastasi con numero 14 dai ben g sorriso giuse sorriso giuse giuse batte il numero 7 mamma per il trino di sinistro fai sorriso fai sorriso adesso tocca allegreville batte il numero 10 batte numero 10 Flavio Chianese Flavio Chianese ciao Nicola batte Flavio Chianese per l'Aigreville gol vai Flavio sorriso per la stampa tocca all'11 del trino tocca all'11 del trino peccato peccato tocca al nostro capitano Tommaso Chiuque direttamente da Cogne si dà la marcia al gran paradiso dai Benji mettimi la palla batte il nostro capitano batte il nostro capitano amichevole con l'arangolare e ne crevino ragazzi una foto di squadra raga una foto di squadra una foto di squadra una foto di squadra raga una foto di squadra dai raga 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 no raga ci sono anche loro forza raga dai dai raga dai raga dai tutti assieme raga dai forza forza ci siete? raga 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 tutti da mister dai dai chi è che intervistiamo? dai sempre io sempre lui come è andata la partita? come è andato il quadrangolare? abbiamo preso chi c'è in giro? no ma niente Andre dai ma cosa devo dire? che devo dire? eh devi dire come è andata la partita dai ma non vedrà squadra chi c'è in giro? ah boh penso che abbiamo preso dei gol di merda perchè è vero ah boh qua alla fine l'abbiamo giocato bene e ci sta qua ci mancava il bel Diddy che diceva dai Gigi 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 tu che sei letto dai fatti alla donna mister vuole dire qualcosa? certo per quanto riguarda la gara tutto quadrangolare allora è stato un quadrangolare molto bello e combattuto tutte le quattro squadre interessante però la finale sembravano i due gruppi che meritavano questo diciamo la vittoria del quadrangolare è finita i calci di rigori ma sapevo che eravate un'ottima squadra anzi mancava forse anche qualcuno a voi a noi mancavano anche quattro cinque ragazzi però più o meno il livello erano questi qua anche i nostri li ha seccati tutti sì 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 quindi è stata una bella gara ce la siamo giocati e sono contento della prestazione dei ragazzi della bella partita e abbiamo approfittato per conoscersi e adesso vi invito a un torneo internazionale grazie per questo deve parlare con il nostro dirigente che lui che ha l'agenda a disposizione io lo stavo girando buona giornata e grazie a tutti grazie salutiamo qui direttamente a Trino con la nebbia e lo fusco vi saluto ragazzi ciao a tutti ciao a tutti